Marcello Dell'Utri non è un mafioso. La sentenza di condanna a sette anni di galere è annullata via un nuovo processo perché tutto è sbagliato e dunque tutto da rifare. Di fronte agli obrobri investigativi e alle carenze processuali, la quinta sezione penale della Cassazione dispone un altro processo per il senatore del PDL. I giudici hanno annullato con rinvio la sentenza di due anni fa, cogliendo il ricorso della difesa sull'onda di una clamorosa requisitoria del procuratore generale che ha fatto letteralmente a pezzi anni di antimafia con paraocchi senza prove, con meno diritti agli imputati e più credibilità per i pentiti. La difesa del senatore con l'avvocato Massimo Krog, un ex giudice, aveva chiesto l'annullamento senza rinvio puntando all'azzeramento totale del procedimento. Affrontarò il nuovo processo ancora più convinto dalla mia innocenza che ho testimoniato in tutti questi anni, fiducioso nella giustizia, ha subito commentato il senatore Dell'Utri. In aula a indicare il pieno sostegno del vertice della procura della Cassazione alla riapertura del processo è arrivato anche il procuratore aggiunto Gianfranco Ciani, che presto guiderà l'ufficio da titolare. Deciso l'intervento del PG Jacoviello nei confronti dei giudici di Palermo, che a suo parere hanno scritto una sentenza senza descrivere il fatto contestato, parlando genericamente di Dell'Utri come mediatore referente politico della mafia, senza riferire una condotta precisa di cui incolparlo, ma solo additando le sue frequentazioni, che già è stato stabilito nella sentenza che ha assolto l'ex ministro Mannino, non sono un elemento di prova. Tutti gli imputati devono avere gli stessi diritti, non ci sono imputati che devono averne di meno. Nel caso di Dell'Utri, aggiunto il PG, si è ignorato persino il principio del ragionevole dubbio e si è ricorse al solito pentitismo. L'avvocato Krog ha messo in evidenza come plateale mancanza della corte di Palermo l'aver preso per buono l'episodio del presunto incontro tra Berlusconi e i boss Di Carlo, Bontade e Teresi a metà degli anni 70, nell'ufficio milanese dell'ex premier, allora imprenditore in ascesa. In proposito, Krog ha rilevato che il giorno dell'incontro Bontade e Teresi erano a Palermo per un processo a loro carico, non potevano inoltre partire perché sottoposti a misure di sicurezza. E poi la descrizione dell'ufficio di Berlusconi fatta da Di Carlo non collima con la piantina topografica. Non si è nemmeno ricordato delle pareti dipinte di rosso, ha detto. I giudici, ha rilevato Krog nella sua ringa, hanno creduto a delle bugie perché pressati dall'assedio della procura compiendo acrobazie di diritto anziché prendersi la briga di andare a Milano e controllare come era fatto l'ufficio e verificare se Bontade e Teresi presero l'aereo. Il verdetto è stato accolto dal centrodestra con commenti positivi.